Continua a salire il numero di cittadini positivi al covid nella città di Agropoli a comunicarlo il sindaco Adamo Coppola nella serata di ieri attraverso una nota stampa. Ho avuto notizia dall'asla di un nuovo caso di contagio in città. Si tratta di un concittadino che non ha nulla a che fare con i precedenti casi. La persona è in isolamento e si sta ricostruendo la catena dei contatti. Buone notizie invece giungono per la turista che era risultata positiva lo scorso 4 ottobre fortunatamente è guarita dal virus. Intanto prosegue l'analisi dei tamponi rimanenti da parte dell'asla di Salerno, molti dei quali sono risultati negativi.